Promuovere la partecipazione popolare alla programmazione delle politiche regionali e locali. E' questo l'obiettivo che si pone il progetto di legge presentato dal consigliere regionale di sinistra italiana Leandro Bracco. La legge identifica nel garante dei processi partecipativi la figura che supervisiona le operazioni e garantisce la correttezza dei processi. Lo stesso consigliere Bracco entra nel merito della proposta legislativa. Il cui fine è quello di dare piena attuazione al concetto di cittadinanza attiva. È una proposta normativa scritta, elaborata e redatta con la stretta collaborazione di Carlo Di Marco che è un docente universitario a Teramo di istituzioni di diritto pubblico. In sostanza si vuole fare in modo che ci sia una stretta correlazione, un connubio fra la democrazia rappresentativa, cioè quella democraticamente eletta e un'altra di natura prettamente assembleare o comunque partecipata per fare in modo che le comunità locali, le associazioni e le realtà territoriali possano essere quanto più ascoltate e prese in considerazione per quanto riguarda i loro punti di vista riguardo quei progetti che risultano essere molto impattanti per determinati territori.